Ma chi sono questi muli e questi fiati? Elisa, hai voglia i nomi? No, ma io non posso fare i nomi. Il più grande giudice è il pubblico, quindi il pubblico che vede e tanto sa tutto, quindi va bene così. Però non è gara, è che stamattina mi sono svegliata un po' così e quindi ho detto quello che pensavo, capita e va bene così. Dai, andiamo avanti. No, no, non vale Elisa, non vale. Sono scoperto Elisa, vogliamo sapere quello che pensi. Facciamo fiati e muli? Non lo so, dei piedi. Allora, iniziamo dai muli, iniziamo dai muli. I muli si autonominano. Facciamo così, mulo. Io non ho capito la differenza. Muletto. E quindi tutto il resto sono fiati, vedi? Però Elisa, scusami, ma tu non puoi uscirmi con una distinzione muli e fiati e puoi non farmi i nomi. Elisa, allora, i nomi, nomi e cognomi. Fatti tu che è il tuo ruolo. Ma tu ci toghi, è come farci vedere una torta al cioccolato e non ce la fai mangiare. Rappresenta l'alzata di mano, l'alzata di mano ha vinto, nel senso che ognuno sa quello che ha fatto. Io non posso fare i nomi degli altri. Io non posso fare i nomi degli altri.